Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Da quando è esploso il Pandoro Gate e è finito il matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez si è trovato al centro di diverse polemiche, alcune cercate, altre piombate addosso in modo del tutto gratuito. Forse è proprio per questo che la mamma, la signora Anna Maria Berrinzaghi, è scesa in campo per difenderlo. A finire nel mirino della donna è stato Francesco Facchinetti. Qualche giorno fa, Francesco Facchinetti ha pubblicato una storia in cui prendeva in giro Fedez e l'ex moglie Chiara Ferragni. Il figlio dei Poo, a pranzo con il manager Niccolò Vecchiotti, con il quale è a capo dell'agenzia Nuco, si è rivolto alla peggiore nemica del rapper, la Lucarelli. Ha esclamato, selvaggia, ora farai un libro anche su di noi! La giornalista, neanche a dirlo, ha ricondiviso la storia di Facchinetti. A quanto pare, la battuta di Francesco non è piaciuta alla mamma di Fedez, che sempre via Instagram ha replicato a tono. Su uno sfondo arcobaleno, la signora Anna Maria Berrinzaghi ha tuonato. Fatti cattuoi che campi cento anni, città Facchinetti. Al momento, il figlio dei Poo non di Francesco non è piaciuta alla prossima, città Facchinetti. Al momento, il figlio dei Poo non è piaciuta alla prossima, città